Io ho studiato danza in Italia fino ai 16 anni più o meno, poi per problemi di studio, di orario l'ho dovuto lasciare, però quando sono venuta qua in Spagna ho sempre cercato, ho sempre avuto l'idea di che mi piacerebbe ricominciare a fare danza, ma chissà se ci sono delle scuole dove posso andare perché sono abbastanza grande e ho iniziato a cercare varie scuole, vari centri, però o non mi andavano bene con gli orari o ero io stessa che avevo un po' di paura di dire ma chissà se sono all'altezza, se mi ricordo, chissà se sono la persona troppo vecchia e quando ho scoperto il centro di Lorna ho detto proviamo e allora mi sono messa in contatto con loro, ho mandato una mail e mi hanno detto sì sì vieni pure a fare una classe di prova e appena sono entrata nello studio ho detto che bello, stavo veramente bene, non mi sentivo a disagio, non mi sentivo che mi guardavano, stavo veramente a mio agio e poi mi sono messa alla barra e sono iniziata gli esercizi e è stato come tornare a 20 anni fa quando ero ancora piccolina e quindi da 20 anni quasi che non facevo danza ho ricominciato e adesso sono due anni più o meno che vado e sono veramente contenta perché posso fare lo sport quello che mi piace, un'attività che mi piace, che mi rende felice, che mi rilassa e quindi sono veramente contenta di aver ricominciato e di aver scoperto lo studio perché così posso fare quello che mi piace, un'attività che mi rende felice, che mi rilassa ma soprattutto dove so che se vado e ho qualche problema, qualche dubbio mi seguono dall'inizio, da quando entro a quando esco e anche dopo e quindi veramente è stata la ricerca migliore che ho fatto su Inter, quella di Ballet per adulto e sono veramente contenta di essere iscritta a questa scuola quindi lo consiglio veramente a tutti, una classe di prova e poi se vi piace sicuramente sarà così e vi iscriverete.